È una delle prime città perché, come dicevo, il problema dell'assicurazione obbligatoria è un problema che costituisce un impedimento abbastanza serio per quanto riguarda le amministrazioni comunali nella predisposizione e nell'accoglimento di richieste per mettere in attuazione l'Istituto Nuovo. Quanti saranno? Ma quanti saranno è impossibile dirlo perché questo dipenderà dalle iniziative personali degli imputati, già abbiamo un certo numero di istanze di rimessa alla prova e queste possono essere incarnate nuovamente attraverso e tramite la convenzione che abbiamo stipulato con il Comune di Catania. In questa sede posso semplicemente dire che l'Istituto per la messa alla prova è previsto per una serie di reati non molto gravi che per l'appunto, proprio perché non suscitano allarme sociale, possono essere trattati nell'ambito del processo attraverso un istituto che poi se avrà un esito positivo ne consentirà l'estinzione e quindi consentirà all'imputato di non subire la punizione della pena in concreto.